Per me era importante ma per trovare magari la condizione, venivo dal titolo di campione italiano quindi già stavo in una bella forma, abbiamo fatto il ritiro la scorsa settimana e devo dire che mi sentivo bene poi sono venuto qua, ero molto sereno, molto sereno in vista di questa gara, l'ho affrontata molto bene mi dispiace un po', ho questo piccolo rammarico che la finale non è andata proprio benissimo, è stato molto bravo Tommy io magari potevo fare qualcosa in più però la vittoria è tutta sua e adesso ottica la gara squadre sarà un bel test per le Olimpiadi di Parigi, dobbiamo comunque mettere a posto determinate cose ma sempre con estrema serenità, i ragazzi sono splendidi quindi me li coccolo un po', io sono il veterano voglio mandare un salutone a Daniele che sicuramente ci ha seguito è sempre lì che ogni volta manda messaggi, ci abbraccia e ci vuole tanto bene quindi gli mando un bacione grande e ora testa la gara squadre